Attuare il principio della sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione è l'obiettivo della proposta di legge del consigliere Mario Polese. Sì, la nostra proposta di legge nasce innanzitutto da un ragionamento con le associazioni dei Lions che portano avanti questo tema un po' in tutta Italia da diversi anni. Abbiamo pensato insieme ai colleghi Castelgrande e Napoli di provare anche in Basilicata a istituzionalizzare sostanzialmente l'applicazione di quello che è appunto un principio costituzionale in una norma. La norma esprime un favor per tutti quegli organi, quei corpi intermedi, quelle associazioni che vogliono impegnarsi a servizio dei cittadini in maniera ovviamente liberale senza che questo possa in qualche modo costituire una sorta di impedimento rispetto ai rapporti con la pubblica amministrazione una sorta di norma che impone alla pubblica amministrazione un sentimento di tutela e non di blocco nei confronti della libera iniziativa dei cittadini, una sorta di norma a favore quindi dell'aggregazione dell'associazionismo ovviamente esclusa in alcuni settori, nello specifico nella sanità e nelle attività economiche e professionali per i ragionamenti che ovviamente si possono dedurre.